Sono dei miei ricordi in questo posto, mi ricordo. Buonasera di me, sono Mario Piotti, buonasera a tutti, ciao. Hai presente un temporale, se non passi che sarà mai. Qui con te, sarò sempre ancora qui per te. Stringimi fortissimo, come non finisse mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.